Buon compleanno Mazinga Z è lo spettacolo a cui abbiamo partecipato questa estate, il 30 agosto a San Marino, proprio per celebrare questo fantastico robottone. Ora questo spettacolo, dedicato alla memoria di Detto Mariano, è diventato un DVD meraviglioso. Oh, il regalo perfetto anche per questo Natale. Uno perché se ami le sigle non puoi non averlo nella tua collezione e poi perché contribuirai a una buona causa perché tutti i proventi del DVD saranno devoluti al servizio disabilità e assistenza residenziale della Repubblica di San Marino. Quindi con i regali siamo a posto? Eh sì, quindi direi non resta che augurarci... Un fotonico Natale!